Ciao a tutti e benvenuti alla rubrica degli stronzi. Allora, visto che qua c'è tanta gente educata, ce vogliamo cominciare la trasmissione con un annuncio. La rubrica degli stronzi non usa parole volgari o cazzonerie, eh? Noi siamo per il galateo dell'italiano. Parla bene ed eggerisci meglio, va. Ah, comunque, da oggi sono parole incluse nel dizionario. Scusate un attimo. Pronto? No, non è famiglia Borcu, ha sbagliato il numero. Perdonate l'intervallo. Allora, dicevo... Chiedo scusa un'altra volta. Pronto? Famiglia Vacca? No, no, qua non ci sono animali, eh? Quindi, dicevo, da oggi sono parole pulite, ya! Ah, e alza interruzione. Scusate un attimo. Pronto? Famiglia Dragon Ball. No, ha sbagliato il fumetto, eh? Le porca amici, scusate, questi mi stanno provocando. Fammi vedere l'ultimo numero che ci adocchiamo. Pronto? Qui c'è la rubrica degli stronzi? Sì, cercavamo quello stronzo che sta rompendo i coglioni tutta la mattina, ya! Ah, è in bagno. E se vede che è proprio uno stronzo, eh? Ciao, 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 ciao!